Sì, le mie slide, loro ho riproposto la classifica finale, in modo tale che così si vede a parte il nostro quinto posto, far vedere che poi il Lecco, che era arrivato sesto, è uscito clamorosamente contro il Grosseto, perdendo in casa per 1-4. Quindi a questo punto l'unica favorita che giocava in casa, che ha passato il turno, è l'Albino Leffe, che ha vinto contro il Ponte d'Era. Quindi l'Albino Leffe, del nostro ex mister Zaffaroni, ha la possibilità di andare alle fasi, vincendo contro il Grosseto, di andare alla fase nazionale. Vabbè, lì poi mi dispiace dirlo, non è che ci riguarda. Però la regola che ha fatto saltare i play-out, cioè gli otto punti, io l'applicherei anche ai play-off. Giusto. Perché la Juventus è arrivata a 9 punti dalla Propatria, ha indovinato per una serie di circostanze la partita di domenica scorsa e si ritrova al turno successivo a Propatria stagione conclusa. Secondo me è da rivedere. Non sarebbe una brutta idea, effettivamente. Ma un altro slide, invece, è il miglior tigrotto. Cioè, abbiamo verificato la media dei voti che in tutto l'anno sono stati assegnati da parte delle principali testate, sia online, sia cartacee. Quindi il miglior tigrotto è venuto in base alla media Lombardoni. E poi Gatti, che ovviamente ha fatto una grandissima stagione ed è un po' la rivelazione. Poi il nostro giocatore del centrocampo, Nico. Bertoni. Sono in disaccordo. E poi anche Boffelli. Sei in disaccordo? Io metto Bertoni, Gatti e poi Greco, che tra l'altro è nella top 5 delle parate del primo turno dei play-off. Secondo me è venuto fuori Lombardoni con una media di 6,61 perché avendo giocato meno partite, in tante partite ha preso 7 e quindi la media è risultata più elevata. E comunque direi che il nostro centrocampo è sorretto da Nico e Bertoni. Secondo me Bertoni quest'anno è il miglior regista del giro. E' veramente tanto, 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 tanto. E Bertoni è il primo anno che rientra tra i migliori perché nelle altre annate non era tra i migliori quindi comunque è testimoniato anche da questo fatto.